la Camera di Commercio Riviere di Liguria, Imperia, La Spezia e Savona, l'Ufficio di Promozione dello Sviluppo Economico e dell'Ufficio Internazionalizzazione. Prego dottore e grazie ancora per la fiducia accordataci. Non sarebbe altro. Noi abbiamo, allora, buongiorno a tutti, innanzitutto buongiorno alle nostre aziende, in primis e buon pomeriggio a Tokyo, ormai siamo quasi, sono con l'ottore di differenza, siamo in serata a Tokyo, quindi un buon pomeriggio ci sta tranquillamente. Vi do il benvenuto quindi a questo webinar sul mercato giapponese, che rappresenta sicuramente anche per noi i miguri un po' aziende, un po' più piccoline, e quindi di dimensioni leggermente inferiori, forse a tante altre imprese di altre regioni. Sicuramente è un mercato importante sia per dimensione che per opportunità da cogliere. Ringrazio lei come direttore dell'Ufficio ICE di Tokyo e ICE di Pechino, quindi è passato, ha scavalto su tutti e due i fronti asiatici, e tutti i suoi colleghi, che sono stati veramente gentili, a riuscire ad organizzare un intervento così molto velocemente a favore delle nostre imprese. Come dicevo appunto prima, sicuramente il settore agroalimentare per noi è il settore trainante della nostra regione. Vedo che sono collegate ben 25 aziende, quindi ci fa piacere che questo possa anche dimostrare interesse, quindi questo webinar formativo. Noi abbiamo come riviere di Liguria a Food Extopio, che è la più importante manifestazione sull'agroalimentare in Giappone, una collettiva di otto aziende, quindi una collettiva abbastanza cospicua. Come diceva appunto il dottor Bruno, sarà possibile fare domande attraverso la chat, quindi chiunque un'azienda sia partecipante a Food Ex e sia solo interessata al mercato giapponese e quindi a come approcciarlo per chi non c'è ancora, può tranquillamente fare domande nella chat. Il tempo è sicuramente poco perché due ore poi alla fine passano velocemente, lascio quindi la parola al direttore per iniziare il webinar. Grazie ancora. Grazie dottor Lavaggetto. Allora senza ulteriori indugi passerei alla presentazione. Mi aiuterò con alcune slide in modo da rendere più semplice e più agevole la partecipazione delle imprese. Eccoci... Un attimo soltanto... Un attimo soltanto... Riuscite a vedere le slide? Non ancora, Gianpaolo. Scusate per questo. Ora sì. Quindi benvenuti nel mercato giapponese, vi porgeremo il benvenuto personalmente nel momento in cui approderete alla Food Ex. Dottor Lavaggetto ha precisato la più importante manifestazione fioristica del Giappone dedicata al cibo importato. Abbiamo voluto intitolare questa nostra presentazione un po' idealisticamente creando anche questa slide di apertura da ponente a levante con la presentazione del mercato giapponese per le imprese Liguri. Allora, descriviamo quindi la mia presentazione sarà basata su una descrizione ancorché sintetica del mercato giapponese, delle sue caratteristiche strutturali, poi guarderemo un po' i dati di import-export del Giappone, approfondiremo qual è il posizionamento competitivo dell'Italia in Giappone, guarderemo un po' i dati della Liguria e i dati dell'agroalimentare, commenteremo anche i dati dell'agroalimentare della Liguria. Successivamente, poi dopo questa disamina del mercato giapponese, passeremo un po' a descrivere il mercato agroalimentare del Giappone e quelle che sono poi le regolamentazioni necessarie per poter esportare prodotti agroalimentari dall'Italia in Giappone. Passiamo quindi alla rassegna del mercato giapponese, è un paese caratterizzato da un'estrema frammentazione del proprio territorio, un'arcipelago di circa 7 mila isole di origine vulcanica, quindi un po' più grande dell'Italia che è intorno ai 310 mila chilometri quadrati, con una popolazione di 124 milioni di abitanti, è l'undicesimo stato più popoloso al mondo e con una forte tendenza all'urbanizzazione, perché il territorio è estremamente montuoso e quindi storicamente poi la popolazione ha atteso agglomerarsi in dei grandi agglomerati urbani, di cui la capitale Tokyo è la sua rappresentazione, è una delle aree metropolitane più popolose al mondo, conta più di 14 milioni come residenti nella città amministrativamente definita, ma il suo entroterra urbano, quindi non interrotto da aree rurali, conta 39,1 milioni di abitanti, quindi è sicuramente l'agglomerato urbano più denso al mondo, più popolato al mondo. Un PIR reale quindi depurato dagli effetti dei prezzi dei tassi di cambio che nel 2023 è stato dell'1%, nel 2024 è stato dello 0,9%, parleremo un po' della dinamica, della crescita dell'economia del Giappone, la forma di governo è una monarchia parlamentare, è un paese che ha un reddito pro capite di circa 34 mila dollari all'anno, valutato a prezzi correnti, ma se confrontato con quello degli altri paesi e tenuto conto del costo della vita di tutti i paesi, quindi il livello generale dei prezzi è un paese che ha un reddito pro capita di oltre 52 mila dollari alla parità dei poteri d'acquisto. Questo è un po' l'andamento del PIR reale negli ultimi 40 anni, oltre 40 anni. Il Giappone è una storia di successo post bellica, ha vissuto il miracolo economico post bellico, con la fase della ricostruzione e la sua impostazione manifatturiera, essendo un paese con poche materie prime, quindi ha raggiunto dei vantaggi comparati notevoli in molti settori del manifatturiero, primi fra tutti il settore automobilistico, di cui è diventato il principale produttore mondiale, anche se proprio l'anno scorso ha perso questo primato, come vedremo a breve, a favore della Cina. Ed è un paese che negli anni 60 è cresciuto del 10% in media decennale, poi negli anni 70 è cresciuto intorno al 7% e negli anni 80 comunque ha mantenuto una dinamica di crescita media del 5%. E poi cosa è successo? È successo che il paese ha attraversato una grossa crisi finanziaria, ha vissuto un periodo di gonfiamento di una bolla speculativa che ha investito tutti gli asset del paese, in primis gli asset immobiliari ma anche gli asset azionari, come spesso accade in questo caso, questa bolla che si autoalimenta, ad un certo momento si è sgonfiata repentinamente. è quello che in macroeconomia si chiama effetto Minsky, dall'economista che l'ha studiata, quindi a un certo punto nel 91 è scoppiata questa enorme bolla finanziaria e il paese ha affrontato un'epoca di crescita anemica, una crescita caratterizzata da bassi tassi di espansione del PIL accompagnata ad una politica monetaria inefficace. Perché cosa è successo? Sostanzialmente lo sgonfiamento della bolla immobiliare, della bolla dei valori azionari, ha determinato un grosso problema di indebitamento degli operatori del paese, quindi imprese, famiglie, che ad un certo momento si è resa conto di avere degli asset per i quali si erano indebitati che valevano molto più del valore nominale del proprio debito. E quindi c'è stata un'azione da parte degli operatori del paese tendente a ridurre la propria esposizione debitoria. E questo periodo di crescita anemica e di inefficacia di tutte le politiche finalizzate a modificare questa situazione di bassa crescita viene detta balance sheet recession, cioè la recessione da bilancio, nel senso che gli operatori, nonostante tutti gli interventi di politica fiscale e politica monetaria, non reimettevano nel ciclo di crescita, nel moltiplicatore chenesiano, per usare una definizione macroeconomica, ma erano invece più preoccupati a ridurre la propria esposizione debitoria. Questo ha dato luogo a 30 anni di... Nel primo decennio veniva detta lost decade, quindi un decennio perso. Il secondo decennio, nei primi anni 2000, il secondo decennio perso, poi alla fine sono stati tre i decenni persi in termini di opportunità di crescita del paese. Sembra che questa fase di deflazione, perché si è assistita a una fase di riduzione dei valori monetari, quindi dei prezzi, associata a una fase di tassi di interesse negativi da parte della Banca Centrale, proprio perché finalizzati a cercare di aumentare le risorse a disposizione degli operatori, che però non le hanno messe in circolo nel sistema economico. E' il famoso bazooka di Draghi, che è stato sperimentato molto prima dalla Banca Centrale del Giappone, con questa politica monetaria estremamente espansiva, e quindi con tassi di interesse negativi, che si mantengono ancora negativi e si però palesa forse la possibilità che nei prossimi mesi la Banca Centrale possa finalmente riattivare la leva del tasso di interesse per poter gestire meglio la propria politica monetaria, che finora, come ho detto precedentemente, è stata totalmente inefficace. Il Paese poi ha vissuto la crisi del Covid, nel 2020 il PIL ha avuto una flessione del 4,2%, con una ripresa successiva a tassi di crescita abbastanza sostenibili, quindi intorno al 2%. Nel 2023 è cresciuta a un tasso dell'1%, nel 2024 il Fondo Monetario Internazionale due giorni fa ha varato le proprie previsioni che indicano un tasso di crescita comunque dello 0,9%. Vediamo ad alcuni primati del Paese. Il Giappone è stato fino a ieri e la terza economia mondiale attualmente è la quarta maggiore economia mondiale per dimensione del PIL dopo Stati Uniti, Cina e Germania. È ancora la quarta maggiore economia se il PIL viene calcolato alla parità dei poteri d'acquisto. Ci sono due modi per calcolare il PIL. La parità dei poteri d'acquisto, come ho detto prima, tiene conto delle differenze del livello dei prezzi dei vari Paesi, quindi del costo della vita. È il quinto maggiore esportatore mondiale e il quinto maggiore importatore mondiale. Tuttavia quello che c'è da dire è che nonostante il Paese abbia sperimentato questa fase di distagnazione, di crescita anemica, ha però mantenuto un livello di ricchezza anche pro capite che si è espanso in questi anni e il Paese beneficia di una qualità della vita molto elevata con una delle speranze di vita più elevate al mondo. I giapponesi sono i più longevi della Terra con un'età media intorno a oltre 90 anni. la qualità delle infrastrutture è molto elevata, soprattutto se parliamo di infrastrutture di telecomunicazioni, di trasporti soprattutto, di energia. Il livello delle prestazioni sociali è molto elevato, soprattutto c'è una sensibilità per quanto riguarda la cosiddetta silver economy, l'attenzione alle persone più anziane e l'assistenza sanitaria è anche molto buona. Insomma, noi che viviamo qui possiamo apprezzare veramente una qualità della vita molto soddisfacente esistono però delle criticità nel Paese ovviamente la tendenza al declino demografico quindi la riduzione della popolazione che si sta sperimentando in questi anni data l'età media molto elevata e data la riduzione della fecondità quindi della nascita di bambini che è un problema molto critico perché andrà necessariamente ad influenzare il potenziale di sviluppo di lungo periodo del Paese. Ovviamente il Paese è caratterizzato anche dato le sue caratteristiche morfologiche è molto esposto alle criticità di carattere ambientale come i terrimoti e ovviamente le conseguenze dei cambiamenti climatici. In ogni caso l'economia è basata il modello di specializzazione del Paese è fortemente basato sui settori ad elevata intensità di innovazione. Parliamo di alcuni primati il Giappone ha la quinta borsa al mondo per capitalizzazione l'indice Nikkei negli scorsi giorni ha raggiunto i livelli record mai registrati è il secondo Paese al mondo per riserve di valuta estera è il quinto Paese al mondo per competitività come viene calcolata dal Global Competitiveness Index è il quarto mercato per consumo al mondo è il secondo produttore di automobili mondiale era il primo come dicevo precedentemente è il principale creditore mondiale e il terzo Paese per ricchezza globale ecco perché il Paese ha degli indicatori di ricchezza estremamente elevati. Qual è la propria specializzazione? Come ho detto precedentemente il Paese ha una specializzazione produttiva che attualmente si concentra su beni ad alta tecnologia su industrie di precisione come i circuiti integrati i veicoli ibridi e la robotica esistono poi delle aree industriali ad elevato tasso di industrializzazione e ad elevato tasso di innovazione che sono la regione del Kanto che vede al proprio baricentro la città di Tokyo ma altre conurbazioni che insistono sulla città di Tokyo e la regione del Kansai che vede come tra le altre città la città di Osaka e questi sono i due principali motori i manifatturieri del Paese Veniamo alla percezione che il Giappone ha del nostro Paese ovviamente il nostro Paese si caratterizza nella percezione dei giapponesi come il Paese della bella vita dello stile di vita dell'eleganza dell'ottimo cibo e soprattutto della dotazione del soft power italiano delle risorse artistiche dei monumenti e quant'altro nella nostra percezione è il Paese ovviamente avanzato dal punto di vista tecnologico ma anche di grande cultura ed anche di cultura gastronomica con cui ha inondato il mondo attraverso i propri prodotti attraverso le proprie produzioni abbiamo una bilancia commerciale che adesso vedremo questo in effetti è il dato del 2023 i principali partner del Giappone come esportazioni sono gli Stati Uniti la Cina e la Corea del Sud i primi tre dal punto di vista dei paesi fornitori di merci sono la Cina gli Stati Uniti e l'Australia e qui vedete un po' chi sono i partner del Giappone in termini di paesi clienti appunto Stati Uniti Cina e Corea del Sud sono prevalentemente dopo gli Stati Uniti paesi asiatici la Germania è il primo paese europeo e l'Italia è il ventitreesimo paese di sbocco del Giappone con una quota sulle esportazioni totali pari a meno dell'1% 0,8% e le esportazioni giapponesi sono aumentate del 22% nel 2023 rispetto al 2022 dal lato che ci interessa di più per quanto riguarda le importazioni come fornitori del Giappone le importazioni ora la caratteristica di cui occorre tenere ben presente anche nei vostri piani di marketing è la variabile tasso di cambio che è soggetto a forti fluttuazioni erratiche e questo deve essere molto importante nell'ambito delle vostre strategie di marketing soprattutto per quanto riguarda le strategie di pricing in questo momento come vedremo fra breve il tasso di cambio dello yen rispetto all'euro si è fortemente depreciato e questo se da un lato ha favorito le esportazioni giapponesi dal lato delle importazioni che è una circostanza che ci interessa di più ha generato una forte perdita una sensibile perdita di competitività delle merci importate cioè le merci importate in termini di yen costano di più e questo ha determinato delle problematiche di riduzione della domanda quindi come vedete le importazioni del paese dal mondo hanno subito una flessione di circa il 7% nel 2023 rispetto al 2022 nonostante questo le importazioni dall'Italia sono invece cresciute del 9,5% l'Italia è ancora il quattordicesimo paese fornitore del Giappone noi riteniamo che esistano le condizioni per aumentare e anche di molto il potenziale di penetrazione delle nostre merci sul Giappone la nostra quota di mercato è notevolmente migliorata nel 2003 ma occorre tenere presente la situazione del tasso di cambio perché questi valori sono infrazionati dal fatto che sono valutati in yen quindi sembrano sembrano più più gonfiati proprio perché lo yen si è depreciato nei confronti dell'euro e questo è un po' l'andamento vedete negli ultimi due anni il valore minimo dello yen è stato toccato nel maggio del 2020 quando un euro valeva circa 115 certo 15 yen attualmente lo yen è intorno a 160 unità per euro quindi potete capire che il forte depreciamento della valuta intercorso in questi tre anni è cominciato durante il covid e proseguito nella fase post-covid e qui vedete un po' l'andamento storico delle importazioni del Giappone dall'Italia negli ultimi anni come vedete c'è stata una dinamica fortemente positiva della del nostro del nostro delle nostre esportazioni in Giappone con alcuni milestone con alcune pietre miliari nei primi anni 90 dal punto di vista settoriale voglio dire nei primi anni 90 il testo di abbigliamento era il primo posto delle nostre esportazioni poi c'è stato all'inizio degli anni 2000 il boom del vino italiano poi purtroppo le nostre importazioni del Giappone dall'Italia hanno subito un relativo un calo molto forte molto sensibile a seguito della crisi finanziaria internazionale associata al fallimento della Lehman successivamente c'è stato però una forte ripresa dal punto di vista settoriale poi caratterizzata anche dall'espansione delle esportazioni di prodotti farmaceutici poi nel 2019 in particolare il primo febbraio 2019 è entrato in vigore l'accordo tra Europa e Giappone l'European Partnership Agreement di creazione di un'area di libero scambio che ha praticamente azzerato o ridotto fortemente i dazi doganali sia in ingresso in Giappone sia per le merci giapponesi in ingresso in Europa che ha generato una forte crescita poi dei prodotti importati in Giappone che pur dopo aver scontato gli effetti della pandemia hanno fatto registrare una dinamica di crescita molto elevata e qui vedete un po' i numeri dell'interscambio commerciale che sono positivi per l'Italia nel senso che il saldo commerciale è positivo per il nostro paese il quinto saldo per importanza della graduatoria del surplus del nostro paese a livello bilaterale importazioni in gennaio dicembre le importazioni dall'Italia sono cresciute del 9,5% le esportazioni giapponesi sono cresciute del 22,1% in termini di euro abbiamo quasi 11 miliardi di euro di importazioni dall'Italia in Giappone e 5,3 miliardi di euro di esportazioni giapponesi in Italia quindi con un saldo che in euro vale oltre 5 miliardi 5,3 miliardi di euro qual è la composizione delle esportazioni dei giapponesi in Italia soprattutto automobilistico per il 37% poi apparecchi meccanici il 21% poi c'è la parte dei metalli ferro acciaio 8% poi strumenti ottici di precisione macchinari apparecchi elettri come vedete insomma l'export giapponese è fortemente caratterizzato per prodotti manifatturieri e industria pesante meccanica strumentale meccanica di precisione macchinari elettrici qual è invece la composizione del del nostro della nostra penetrazione in Giappone al primo posto nel 2023 dei prodotti esportati dall'Italia sono i prodotti della pelletteria che valgono che sono pari al 12,6% del nostro export seguiti dai veicoli in particolare i veicoli di lusso di cui i giapponesi sono forti acquirenti dall'Italia per una quota del 9,5% seguiti ancora da macchine e apparecchi meccanici quindi macchinari italiani soprattutto le macchine utensili 8,5% poi abbiamo un 8,3% dei prodotti chimici organici poi c'è una voce che conta che contava aveva raggiunto l'apice del nostro export qualche anno fa i tabacchi per le sigarette elettroniche che vengono prodotti da una famosa società straniera in Italia poi c'è la gioielleria che è anche un altro settore di forte presidio italiano sul mercato giapponese per il 7,1% e poi via via gli altri prodotti anche i prodotti farmaceutici 5,8% e via via tutti gli altri settori questo grafico fa vedere invece il posizionamento competitivo in termini di quote di mercato del nostro paese un po' complesso da comprendere cercherò di farvelo capire in parole relativamente semplici sull'asse verticale o asse delle ascisse viene registrata la domanda del Giappone per domanda di importazione dall'estero del Giappone quindi quanto il mercato assorbe prodotti provenienti dall'estero a seconda dei vari settori quindi più in alto si va per dirla in parole semplici più vuol dire che per questi settori la domanda giapponese è molto elevata come ad esempio per gli apparecchi elettrici i metalli e prodotti in metallo i prodotti chimici i prodotti farmaceutici che alimentano fortemente l'industria manifatturiera del Giappone più in basso si va invece sono settori in cui la domanda giapponese è relativamente meno dinamica della media e quindi vedete in particolare i prodotti in legno e carta i articoli in gomma e plastica relativamente i mobili la ceramica i mezzi di trasporto i prodotti tessili sull'asse delle ordinate cioè l'asse orizzontale sono invece registrate le nostre quote di mercato in tutti i vari settori per farla breve le medie dei due valori la domanda del Giappone dal mondo e le quote di mercato italiane individuano questi due segmenti diciamo tratteggiati sono le medie la media della domanda negli ultimi cinque anni l'abbiamo calcolato la media della domanda del Giappone dal mondo è cresciuta del 2% mentre negli ultimi cinque anni la media delle quote di mercato dell'Italia in Giappone è stata pari al 2,5% ora queste due diciamo medie individuano quattro quadranti a livello nel grafico cartesiano e abbiamo quindi il 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 quadrante delle star dove ci sono i settori che rappresentano per il Giappone una elevata domanda di importazioni dall'estero e che si associano ad un'elevata quota di mercato dell'Italia quindi sono i cosiddetti settori star secondo la matrice del Boston Consulting Group che ha introdotto questa metodologia per per verificare il posizionamento competitivo all'interno di un mercato invece all'opposto vedete dove c'è il cane sono i prodotti dogs sono i prodotti dove la domanda del Giappone è più bassa della media e anche la quota di mercato dell'Italia è più bassa della media sono prodotti che sono un po' in crisi di crescita nel mercato del Giappone dove vedete appunto il legno e prodotti in legno quasi i mobili vengono attirati in questo in questo quadrante meno virtuoso il quadrante superiore è quello dei question mark dei punti interrogativi sono i settori dove la domanda del Giappone è molto alta più alta della media e la nostra quota di mercato è più bassa e quindi l'aspirazione è quella di aumentare le nostre quote di mercato in questi settori perché possano passare nel quadrante delle star quindi nel quadrante del miglior posizionamento competitivo nel paese infine abbiamo cash cows che sono le vacche grasse che sono i settori invece caratterizzati da una relativamente più bassa domanda del Giappone rispetto alla media mentre caratterizzati invece da una alta quota di mercato dell'Italia noi abbiamo quote di mercato molto alte nei prodotti tessili dell'abbigliamento dei mezzi di trasporto dove sono gli alimentari e bevande che è il settore sotto il nostro che è oggetto appunto delle vostre azioni di promozione è un po' a metà si trova un po' a metà è caratterizzato da una crescita della domanda negli ultimi cinque anni relativamente bassa un po' superiore all'1% quindi più bassa della media ma è un settore in cui abbiamo una media di quote di mercato intorno al 2,1% quindi si trova un po' al centro e quindi il nostro obiettivo anche tramite le nostre iniziative promozionali è quello di riuscire a far aumentare le nostre quote di mercato sperando anche in un aumento progressivo della domanda del Giappone in modo che possa posizionarsi nel quadrante più virtuoso quello dei prodotti stellari e quindi noi ci auguriamo che questo possa avvenire quindi è un settore che ha un potenziale ancora molto elevato e forse ancora inespresso nel medio lungo periodo qui vedete un po' di variazioni percentuali nel 2023 dei vari settori vedete la pelletteria e il settore dove le importazioni giapponesi hanno registrato la crisi città più elevata intorno oltre il 35% seguita dalla gioielleria circa il 30% 28 27 28.7% questo vuol dire che la domanda giapponese per il bello e ben fatto italiano è molto molto elevata e molto promettente anche per per il futuro i veicoli continuo quindi le automobili anche hanno una variazione percentuale superiore al 20% il nostro food and beverage l'agroalimentare ha una una crescita rispettabile direi si potrebbe fare anche di più ed è per questo che siamo qui in presenza massiccia a questa più importante fiera del Giappone 5,1% prodotti farmaceutici purtroppo hanno subito una flessione molto rilevante delle importazioni del Giappone dall'Italia nel 2023 così pure i prodotti succedanei del tabacco che però come dicevo prima vedono ancorché è un'azienda italiana con base italiana ma ha proprietà ha proprietà estera qualche riflessione sui vari settori l'Italia è alla seconda posizione tra i fornitori del Giappone nei prodotti in pelle dopo la Cina e la prima nelle scarpe nelle scarpe in pelle è il sesto fornitore di capi di abbigliamento è il primo fra i paesi asiatici quindi se si fa una ponderazione tra il valore intrinseco il nostro abbigliamento di alta gamma è comunque alla leadership assoluta sul mercato del Giappone la gioielleria al quinto posto tra i fornitori del Giappone ai primi posti ci sono i fornitori di diamanti classicamente poi abbiamo Francia e Stati Uniti la cosmetica abbiamo la settima posizione sul mercato giapponese ma nella profumeria siamo secondi dopo la Francia per quanto riguarda l'arrenamento siamo i quinti fornitori di mobili per sedersi quindi sedie e il primo tra i paesi europei per quanto riguarda l'arrenamento per ufficio abbiamo un undicesimo posto abbiamo l'ottavo posto come fornitore di mobili in legno quindi di arredamento in legno e poi nell'ambito dell'edilizia siamo il secondo esportatore di marmo e travertino dopo la Cina per quanto riguarda i settori della meccanica e della meccatronica noi siamo al decimo posto e al terzo posto tra i fornitori europei comunque le nostre imprese sono ben posizionate sul mercato del Giappone l'Italia ha registrato un incremento di oltre il 20% rispetto al 2022 e siamo poi al quinto posto per esportazione di veicoli da turismo così come si definiscono al quarto posto per esportazione di veicoli in generale ma non ferroviari e al quarto posto per esportazioni di automobili siamo inoltre i quarti fornitori di prodotti chimici organici del Giappone al secondo posto europeo dopo la Germania e veniamo all'agroalimentare abbiamo il secondo posto in graduatoria nell'esportazione di olio di oliva quindi allineati con quelle che è la specializzazione della regione Liguria e veniamo purtroppo dopo la Spagna sappiamo che la Spagna soprattutto in termini di volumi ha molti mercati la leadership in termini di importazione siamo il secondo paese importatore di vino dopo la Francia purtroppo nei salumi abbiamo scontato un forte trauma che è quello della peste suina che ha visto bloccare le importazioni di prodotti a base di carne suina in Giappone che sono state sbloccate solo per alcuni prodotti recentemente la notizia è stata data la scorsa settimana per il momento i prodotti cotti quindi tipo il parmacotto per essere chiari è stato ammesso all'esportazione ci auguriamo le negoziazioni sono attualmente molto intense per riuscire a riportare i nostri prosciutti di eccellenza il San Daniel prosciutto di Parma in primis ma tutta la produzione di salumi del nostro paese di riportare in Giappone di ammettere l'importazione di questi prodotti siamo nell'ambito dei formaggi il quinto esportatore in Giappone il secondo europeo dopo l'Olanda nel caffè non abbiamo una buona posizione in classifica perché i grossi fornitori del Giappone si rifornisce soprattutto dai paesi produttori di caffè e quindi non abbiamo una posizione rilevante in termini di fornitura di caffè siamo però i primi indiscutibilmente i primi nella fornitura di pasta e di pomodori in conserva ora per quanto riguarda gli alimenti biologici sono in forte crescita come vedremo fra poco anche considerata la sensibilità dei consumatori verso gli aspetti salubri della vita e quindi la domanda si rivolge molto spesso a prodotti biologici ma esiste una peculiarità del mercato giapponese occorre conseguire per essere considerato prodotto biologico occorre conseguire la certificazione in Giappone non sono ammesse certificazioni esogene per così dire e quindi è difficile per noi è molto costoso anche caratterizzato da lungaggini burocratiche il poter conseguire la certificazione biologica per cui è ancora di nicchia il nostro posizionamento all'interno dell'ampio settore agroalimentare qui vedete il nostro posizionamento nelle importazioni agroalimentari del Giappone dal mondo e praticamente siamo al diciassettesimo posto in graduatorio abbiamo una quota di mercato che si avvicina all'1,6% come vedete crescono le importazioni dall'Italia il potenziale è ancora molto elevato e ci auguriamo appunto di poterlo sempre di più esprimere anche grazie alla partecipazione a Foodex Japan quali sono i principali prodotti agroalimentari importati dal Giappone e dal mondo in modo da far capire qual è la caratteristica della domanda il Giappone è forte importatore di commodities alimentari perché uno degli obiettivi strategici del paese è quello di conseguire una sicurezza alimentare quindi vedete al primo posto c'è il Gran Turco che rappresenta oltre il 7% delle importazioni proprio le carni suine come detto i filetti di pesce e anche altra carne di pesce per un ulteriore 4,7% poi c'è la carne per un ulteriore 4,4% ancora pesci soia frumento come vedete insomma sono derrate agricole che poi vengono trasformate in prodotti confezionati quindi al primo posto di prodotto confezionato c'è il vino che rappresenta il 2,6% delle importazioni totali del Giappone dal mondo e per fare matching qui vedete la crescita dell'importazione la crescita direi progressiva e costante delle nostre delle importazioni del Giappone di prodotti alimentari e bevande dall'Italia e cosa importa il Giappone dall'Italia qui vi da proprio l'articolazione prodotto per prodotto di delle categorie che il Giappone sta importando dall'Italia quindi al primo posto c'è il vino che rappresenta circa il 20% delle importazioni agroalimentari totali del Giappone dall'Italia seguito dai pomodori che rappresentano un ulteriore 13% seguito dall'olio di oliva per un ulteriore circa 11% poi lattiero caseari formaggi e latticini per il 10,4% poi la pasta che rappresenta oltre il 10% dal nostro import la cioccolata e le altre preparazioni a base di cacao per il 6,6% e poi ci sono zucchi di frutta prodotti da forno e poi anche ci sono perché fanno parte della definizione dei prodotti agroalimentari anche preparazioni per l'alimentazione degli animali e infine i filetti di pesce che rappresentano l'1,7% delle importazioni totali agroalimentari del del Giappone e veniamo adesso a quali sono le regioni esportatrici italiane quindi finora abbiamo analizzato un po' i dati di importazione dal lato Giappone adesso analizziamo un po' di export regionale italiano vedete queste sono le principali regioni esportatrici dell'Italia sul mercato del Giappone Lombardia Emilia Romagna e Piemonte la Liguria si classifica al terzo posto al tredicesimo posto nella graduatoria regionale con esportazioni in Giappone i dati sono dei primi nove mesi del 2023 questo è l'interscambio della Liguria con il Giappone vedete sta diciamo nel 2022 si è registrato un saldo positivo di circa 33 milioni di euro le esportazioni sono state pari a circa 80 milioni di euro e le importazioni a 46 milioni di euro vedete nel 2016 e 2017 si era verificato questo forte disavanzo dovuto al fatto che la Liguria aveva registrato in importazioni dal Giappone alcune imbarcazioni e quindi quando quando ci sono le imbarcazioni i dati di commercio estero tendono a subire una fluttuazione molto molto erratica quindi direi una una struttura relativamente positiva però si può fare anche di più ed è per questo che la regione anche abbiamo analizzato negli ultimi giorni la strategia regionale per l'internazionalizzazione che ci sembra molto molto coerente molto ben declinata speriamo che il Giappone possa essere poi anche un potenziale obiettivo dei processi di internazionalizzazione della della Liguria su questo mercato perché noi vediamo molte potenzialità soprattutto per quanto riguarda l'economia del mare ma non solo le biotecnologie la silver economy essendo la Liguria uno dei paesi con un invecchiamento più elevato della popolazione quindi esistono molte similarità con con il Giappone ma anche l'agroalimentare ha le sue potenzialità ancora inespresse qui vediamo qual è per settori però non vado nel dettaglio vi faccio vedere quali sono i principali prodotti esportati dalla Liguria in Giappone sono nel 2023 sono state navi e imbarcazioni per circa 10 milioni di euro vedete quando si inseriscono le navi c'è stata una variazione percentuale rispetto all'anno precedente lo stesso periodo di circa il 500% quindi vuol dire che un cantiere navale situato in Liguria ha venduto delle navi delle imbarcazioni in Giappone poi ci sono i macchinari per circa 5,5 milioni di euro poi i prodotti lattiero caseari per circa 5,3 milioni di euro poi ci sono prodotti chimici e poi l'olio per 2,8 milioni di euro e ancora prodotti chimici ed altri prodotti diciamo della meccanica ma anche della cosmetica e articoli di abbigliamento per indicare i principali a livello di provincia quali sono le principali province Liguri che esportano in Giappone sicuramente la provincia di Genova nel 2023 gennaio settembre circa 30 milioni di euro ma inflessione di oltre il 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre la seconda provincia è stata quella di Savona con 15,8 milioni di euro e ha registrato un aumento del 75% delle proprie esportazioni questo dato è da mettere in correlazione con l'export di navi e imbarcazioni quindi potete capire quale è il prodotto che è stato esportato maggiormente dalla provincia di Savona in Giappone seguono poi la Spezia e Imperia e allora qui vedete invece le esportazioni delle varie regioni italiane a livello agroalimentare e cambia un po' la graduatoria perché la Campania è la principale regione esportatrice di prodotti agroalimentari in Giappone seguita dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia la Liguria si classifica al decimo posto per esportazioni agroalimentari e qui vedete in serie storica le esportazioni agroalimentari della Liguria in Giappone hanno raggiunto il climax il punto più alto proprio nel 2022 con 19,3 milioni di euro nel gennaio settembre 2023 il mercato tiene 12,3 milioni di euro ai margini un po' più basso di gennaio settembre 2022 ma esistono le potenzialità perché in ragione d'anno quindi a dicembre si possa registrare un nuovo record e io ve lo auguro e auguro alle vostre imprese di avere il successo che meritate su questo mercato in termini di esportazioni agroalimentari è sempre Genova che è la principale provincia esportatrice sul mercato del Giappone con 7,7 milioni di euro seguita da Imperia con 2,4 milioni di euro e seguita ancora dalla Spezia con 2,1 milioni di euro Savona invece che era forte nelle esportazioni a livello generale invece esporta soltanto 78 mila euro nell'ambito agroalimentare quali sono le principali esportazioni agroalimentari della regione Liguria in Giappone nel gennaio settembre 2023 è il lattiero caseario abbiamo visto con 5,3 milioni di euro seguita dall'olio di oliva i grassi vegetali animali 2,8 milioni di euro seguita dagli altri prodotti alimentari che è questa categoria che comprende la pasta i prodotti in cereale e altri altri prodotti in termini in termini in termini di bevande i dati istat regionali non vanno molto a fondo nei settori però all'interno delle bevande c'è il vino che la fa da padrone ovviamente rappresenta circa il 95% delle esportazioni della Liguria ed è pari a 1,3 milioni di euro nel 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 ma c'è stata una flessione di oltre il 35% rispetto all'anno precedente come ho detto l'Europe Japan Partnership Agreement ha dato un impulso notevole al commercio dall'Europa verso il Giappone ma anche viceversa perché ha comportato l'eliminazione dei dazi sulla maggior parte delle merci soprattutto i prodotti industriali ne hanno beneficiato come i prodotti chimici le materie plastiche la cosmetica ma anche i prodotti alimentari che hanno vissuto soprattutto per quanto riguarda le aziende italiane hanno beneficiato della conclusione di questo accordo ma anche il settore della moda per quanto riguarda specificamente l'abbigliamento da donna e l'abbigliamento in pelle quindi questa è un po' stata l'evoluzione della diciamo l'influenza positiva della conclusione di questo accordo di libero scambio fra Europa e Giappone che ha che ha veramente determinato una una forte dinamica di crescita dei flussi commerciali bilaterali quindi sia dall'Europa verso il Giappone sia dal Giappone verso l'Europa questa è un po' la struttura dei canali distributivi in Giappone avendo capito il Giappone cosa importa avendo capito un po' il nostro posizionamento competitivo passiamo a diciamo a rappresentare come come si può vendere con successo in Giappone e ovviamente il Giappone segue lo schema classico del del processo di distribuzione e quindi l'esportatore primariamente deve rivolgersi ad un importatore che in Giappone come in molti altri paesi esercita un'influenza strategica un'influenza fondamentale nel fare il mercato per l'impresa estera l'importatore poi di solito fornisce il grossista e il grossista fornisce il retailer nelle varie accezioni di retailer per giungere al consumatore finale il concetto però che vogliamo sottolineare che in tutti questi passaggi si genera una forte un forte aumento del prezzo per il consumatore finale che giunge appunto a suo carico a circa tre volte rispetto al prezzo iniziale imposto dall'esportatore all'importatore quindi per esempio per fare un esempio sul vino se un vino che costa in Italia 8-10 euro viene venduto in Giappone se va bene a 15 euro ma anche a 20 euro insomma nelle strategie di marketing occorre tenere molto presente le strategie di pricing per cercare di evitare di trovarsi fuori mercato e soprattutto tenere presente la variabile del tasso di cambio e tutte le varie fasi che il prodotto deve attraversare fino a giungere al consumatore finale quindi occorre fare molta attenzione per evitare di se si vuole appunto avere successo sul mercato bisogna avere un obiettivo ovviamente di marginalità però stare attenti poi a come questa marginalità viene applicata in termini di prezzi e in termini di tutta la catena del valore che determina un'espansione dei prezzi per il consumatore finale esiste anche un mercato e-commerce prevalentemente B2C però con forte predominio dei canali e-commerce nazionali quindi c'è una scarsa penetrazione dei canali internazionali e quindi e quindi occorre tenere presente che se si desiderasse espandere la propria presenza commerciale sul paese occorre guardare alle varie pattaformi e-commerce giapponesi e questo comporta diciamo una diciamo degli sforzi che per molto spesso per una piccola impresa non possono essere realizzati sforzi in termini di risorse in termini organizzativi in termini finanziari qui vedete un po' la crescita degli ultimi anni dell'e-commerce in Giappone bisogna dire che comunque il l'agroalimentare bevanda è una delle diciamo delle categorie maggiormente scelte dai consumatori giapponesi che si rivolgono alle piattaforme e-commerce quindi comunque il canale è un canale molto efficace qui abbiamo gli investimenti del Giappone nel mondo questo ci interessa relativamente poco comunque il Giappone investe anche fortemente in Italia grosse imprese giapponesi sono largamente presenti in Italia soprattutto nell'ambito della meccanica di precisione nell'alta tecnologia ma anche nelle infrastrutture mentre i flussi di investimento dell'Italia in Giappone sono meno diciamo hanno meno spessore rispetto agli investimenti giapponesi in Italia ovviamente una delle nostre obiettive è di aumentare sempre di più il volume di investimenti giapponesi in Italia a questo scopo abbiamo creato un desk specializzato per l'attrazione degli investimenti diretti esteri e ovviamente la Liguria nell'ambito delle proprie strategie di attrazione degli investimenti potrebbe certamente guardare a partner giapponesi per proporre opzioni di localizzazione nel vostro splendido territorio le opportunità di investimento in Giappone riguardano soprattutto i settori ad elevata intensità di innovazione come le smart city l'internet thing le tecnologie digitali i big data ma anche la tecnologia applicata al settore medicale delle scienze della vita il settore delle attualmente anche dell'intelligenza artificiale ma anche dell'industria 4.0 del cyber security su cui il governo giapponese sta appuntando moltissimo per alimentare i processi di sviluppo di lungo periodo del paese nell'ambito dell'agroalimentare è molto attenzionato il segmento del food tech quindi la parte per quanto riguarda la meccanizzazione e la tecnologia agricola la gestione dei sistemi agricoli anche attraverso i droni attraverso il monitoraggio GPS c'è un'attenzione anche all'economia circolare perché il paese ha bisogno di ridurre il proprio carbon imprint e quindi c'è anche un drive notevole verso l'aumento delle energie rinnovabili come sapete la tragedia della centrale nucleare di Fukushima ha generato un dibattito all'interno del Giappone se mantenere ancora il proprio impegno nell'ambito dell'energia nucleare a seguito della tragedia del disastro sono state chiuse 50 centrali nucleari e quindi il Giappone guarda molto alle energie rinnovabili come un potenziale sostituto delle attuali fonti di generazione energetica basata ancora sui combustibili fossili sull'energia nucleare perché il Giappone non ha risorse energetiche proprie qui in materie prime energetiche e ovviamente l'automotive e la robotica è un altro settore ad elevata dinamica di crescita si guarda molto ovviamente come in molti altri paesi ai nuovi veicoli elettrici alle loro batterie ai veicoli a guida autonoma e alla mobilità sostenibile per il futuro di questo settore avrei finito questa prima fase di rappresentazione schematica un po' sintetica dell'economia giapponese passerei al un po' più specificamente a rappresentarvi quelle che sono le caratteristiche del mercato alimentare in Giappone in modo da poter comprendere a fondo quali sono le caratteristiche della domanda giapponese rivolta anche ai prodotti alimentari stranieri quindi farò una panoramica del mercato alimentare quali sono le influenze culturali e storiche che lo hanno caratterizzato e soprattutto con uno sguardo alle tendenze recenti e future che ne alimentano il potenziale di sviluppo di lungo periodo il mercato alimentare giapponese è un settore molto molto variegato e differenziato caratterizzato da una combinazione di tradizione e innovazione le sue caratteristiche principali sono la diversità e la qualità ovviamente alla base c'è la tradizionale cucina giapponese la washoku che include come ben sappiamo il sushi il sashimi il ramen la tempura e a questa cucina tradizionale sono sempre più associati prodotti alimentari moderni influenzati dall'occidente la qualità dei prodotti che pervadono il mercato è di solito molto elevata con un forte accento anche alle caratteristiche di sicurezza alimentare di salubrità e un forte accento sulla freschezza ed attenzione alla provenienza degli ingredienti la cucina giapponese è patrimonio immateriale dell'UNESCO lo stesso processo che stiamo perseguendo per quanto riguarda il riconoscimento della cucina italiana gioca un ruolo centrale nella cultura del paese gli alimenti gli ingredienti tradizionali utilizzati dalla cucina giapponese sono il riso il pesce la soia e le verdure che compongono la maggior parte dei piatti tipici ma il mercato è anche noto per la sua continua innovazione ci sono evoluzioni importanti nell'ambito dei prodotti confezionati negli snack nelle bevande ma anche nuovi concetti di ristorazione di presentazione dei cibi l'altra caratteristica la forte penetrazione delle importazioni perché il Giappone non ha risorse sufficienti per soddisfare la propria domanda interna quindi deve importare una quantità volumi significativi di cibo a causa della limitata terra arabile come abbiamo visto precedentemente un terreno molto frastagliato molto molto montuoso e allo stesso tempo però esporta come sappiamo prodotti alimentari di alta qualità quali sono le caratteristiche che i consumatori in questo momento stanno ricercando sicuramente la salute e il benessere quindi con un'attenzione molto crescente per i cibi salutari i cibi funzionali molte persone sono molto attente al proprio equilibrio nutrizionale e i benefici salubri che possano apportare al proprio corpo poi però si guarda anche alla convenienza e il mercato in effetti offre molte opzioni per consumo di cibo in modo veloce e conveniente come i cosiddetti combini che sono i convenience store che vendono una grande varietà di cibi pronti ma anche pasti in scatola che sono molto popolari per i pranzi da da asporto e il settore della ristorazione è estremamente vario comprende tutto dai ristoranti di lusso alle piccole taverne giapponesi che si chiamano i zakai e il turismo gastronomico è un altro aspetto importante dell'industria turistica giapponese e da questo sicuramente anche la Liguria può apprendere determinate modalità per attrare anche l'interesse di turisti giapponesi l'altra caratteristica è la sostenibilità del del cibo e che sta diventando un tema sempre più importante e quindi forte attenzione dei consumatori per la produzione alimentare sostenibile la riduzione degli sprechi alimentari e le pratiche etiche di consumo ovviamente le influenze culturali essendo un paese di profonda e lunghissima antica cultura le influenze culturali e storiche sul mercato sono state e sono profonde e molto variegate riflettono l'unicità e la diversità culturale del paese e queste influenze ovviamente hanno determinato un impatto non solo sulla tipologia del cibo che viene consumato ma anche sulle sue modalità di preparazione di presentazione di consumo vado un po' veloce però è importante come la cucina giapponese parte comunque da tradizioni culinarie indigene quindi gli ingredienti locali che ho citato il riso le verdure le alghe il pesce ma ha anche subito poi le influenze religiose quindi in particolare il buddismo introdotto in Giappone dalla Cina e poi lo shintoismo che con la sua enfasi sul rispetto della natura ha influenzato alla semplicità e la stagionalità degli ingredienti la Cina ha influenzato significativamente la cultura giapponese infatti il riso la soia il tofu sono stati introdotti dal continente cinese e poi si sono sviluppate anche cucine endogene come la cucina sviluppatasi nel periodo Edo diciamo il periodo di feudalesimo se vogliamo giapponese successivamente alla fine del periodo Edo con la restaurazione del Meiji quindi dell'impero l'apertura alla fine dell'Ottocento l'apertura la progressiva apertura del Giappone all'Occidente ha introdotto nuovi ingredienti la carne che era un piatto atipico un ingrediente atipico è gradualmente apparsa nelle cucine nella cucina giapponese così come il curry e il pane che sono stati introdotti adattati ai gusti locali e poi dopo la seconda guerra mondiale con l'apertura al mondo del nuovo Giappone c'è stata l'introduzione dei cibi americani ed occidentali come il fast food che hanno influenzato le abitudini alimentari soprattutto delle nuove generazioni anche se c'è stato poi un rinnovato interesse per la cultura tradizionale giapponese negli ultimi decenni la globalizzazione ha portato ulteriori innovazioni nel mercato alimentare del Giappone con l'introduzione di molti piatti fusion quindi che combinano gli elementi della cucina giapponese con altre culture internazionali quello che conta è comunque l'importanza della stagionalità ma anche dell'estetica che è connaturata poi a quelle che sono le caratteristiche della profonda cultura e del modo di vivere e della civiltà giapponese quali sono le tendenze recenti e future del mercato giapponese sicuramente una maggiore preferenza una progressiva maggiore preferenza per cibi salutari e funzionali quindi che promuovono la salute e il benessere la sostenibilità che è diventata un tema centrale quindi con un'attenzione e interesse alla provenienza degli alimenti ma anche a monte con pratiche agricole sostenibili la riduzione degli sprechi alimentari e c'è una rinnovata attenzione comunque agli alimenti a base vegetale e anche ai sostituti della carne i cibi vegani che stanno fortemente aumentando la propria penetrazione nel mercato e altra influenza è quella dell'innovazione tecnologica che sta influenzando anche l'industria alimentare in tutta la sua catena del valore che comporta sia la produzione del cibo sia la sua distribuzione molto in voga sono le consegne a domicilio e soprattutto i piatti pronti situazione che è legata ai cambiamenti dei modelli di lavoro e di vita e come appunto anche l'aumento del lavoro da casa e quindi questo sta portando a un maggiore interesse per opzioni di pasti sani e convenienti una marcata personalizzazione quindi una dieta personalizzata in base alle esigenze individuali quindi diete basate anche su allergie alimentali preferenze personali o obiettivi personali di salubrità e quindi molto popolari sono diventati gli snack salutari e innovativi molto spesso conditi con ingredienti tradizionali giapponesi al fine di far fronte a una domanda di maggiore nutrizione ma a minore assorbimento calorico come ho detto il potenziale è comunque elevato il paese dipende dalle importazioni alimentari e che è una caratteristica significativa del suo mercato alimentare molti di questi concetti li abbiamo già sceverati quindi il limitata terra arabile del paese che costinge appunto a guardare ai prodotti importati l'elevata densità della popolazione le preferenze alimentari sempre più diversificate e ovviamente orientate a una dieta moderna il paese comunque importa grandi quantità di grano e di soia e che sono essenziali per la dieta giapponese moderna vengono ampiamente utilizzati quindi per la produzione di pane pasta tofu e altri alimenti la forte dipendenza del paese dai prodotti ittici in cui la domanda oppure essendo un forte produttore di pesce il paese dipende non riesce a soddisfare la domanda interna e quindi sto portato a una dipendenza dalle importazioni di pesce e prodotti di mare altre caratteristiche sono la sicurezza alimentare e l'autosufficienza che sono diventati degli obiettivi strategici a carattere nazionale anche al fine di mitigare l'impatto delle possibili di fluttuazioni del mercato globale indotte anche dalle crisi geopolitiche a cui stiamo assistendo nei nostri giorni e l'altro aspetto presente sono le regolamentazioni alimentari siccome il paese è fortemente sensibile alla sicurezza alimentare esistono delle regolamentazioni piuttosto rigide per assicurare che il cibo importato sia appunto sano e non comporti rischi per la salute dei consumatori e quindi i controlli doganali sono estremamente rigidi controlli che vanno soltanto a inficiare la natura dei prodotti e le caratteristiche organolettiche dei prodotti ma anche il loro packaging e soprattutto la loro etichettatura e quindi questa è un'altra raccomandazione che faccio ai produttori liguri è quello di tenere molto presenti questi aspetti come pure di studiar bene le regole di importazione e di distribuzione che vingono in Giappone pena andare incontro a delle forti delusioni ma anche a dei forti rischi di danni economici qualora le cose non vengano fatte seguendo le norme del del paese abbiamo visto le tendenze alimentari quindi vado velocemente su su questi aspetti ecco l'altra caratteristica che influenza i consumi alimentari sono anche le stagioni quindi i consumi sono molto sensibili al cambiamento delle stagioni e quindi anche la tipologia di dieta e di prodotti che si forniscono per soddisfare questa dieta devono essere attenti all'alternarsi delle stagioni e alle preferenze di consumo dei giapponesi occorre anche tenere presente i festival e le tradizioni del paese perché ogni festival comporta delle celebrazioni che spesso includono piatti e alimenti specifici l'altra caratteristica che da tener presente che è molto importante avere anche una presentazione esteticamente piacevole perché i giapponesi tendono molto alla presentazione delle pietanze dei piatti il packaging è molto importante e chiaramente tutto questo è influenzato dalla filosofia giapponese di vivere in armonia con la natura celebrando ogni stagione con i doni unici della natura quindi ci sono queste tendenze dei fast food su cui vado molto rapidamente perché mi interessa anche sottolineare la crescita che negli ultimi anni si sta verificando per quanto riguarda i prodotti biologici ma anche per i prodotti locali e comunque ho già accennato alla farraginosità e alla difficoltà di ottenere le certificazioni biologiche in Giappone perché il Giappone non riconosce le certificazioni biologiche degli altri paesi e ovviamente la crescita del settore biologico come molti altri mercati è da associare all'aumentata sensibilità per la salute ma anche per le preoccupazioni per l'ambiente corroborata poi da iniziative anche governative per promuovere l'agricoltura biologica e per generare un aumento di offerta di questi prodotti e quindi si è verificato negli ultimi anni un aumento delle importazioni ma anche il commercio online ha generato una forte influenza sull'aumento della domanda interna di questi prodotti ovviamente attraverso azioni di formazione campagne di sensibilizzazione i consumatori giapponesi sono sempre più informati sui vantaggi del cibo biologico dell'agricoltura biologica e sui problemi associati alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ovviamente l'impatto del covid è stato notevole come del resto in molti altri paesi sulle preferenze dei consumatori ma anche sulle abitudini di acquisto e quindi c'è stato un processo di adattamento del mercato a queste condizioni e si sono instaurate delle tendenze che anche post covid soprattutto per quanto riguarda i processi di distribuzione tendono a permanere e saranno sempre più presenti nel mercato e quindi sicuramente il covid ha influenzato anche i processi di sostenibilità nel settore alimentare si sono moltiplicate le iniziative per la sostenibilità per la riduzione dello spreco e per aumentare sempre di più la percentuale di agricoltura sostenibile nel paese e quindi c'è stata anche una crescita di cibi alternativi anche la popolarità appunto di questi che vengono definiti superfood e un aumento del livello di innovazione nei cibi e nelle bevande consumate dal paese in termini di alimenti alternativi attenzione alle proteine alternative come ho detto anche plant based food quindi sostituti della carne vegetale ma anche di latte e formaggi e quindi la la popolarità dei superfood come la quinoa la spirulina insomma sono sempre più popolari nel cibo giapponese ma anche gli ingredienti tradizionali vengono utilizzati come superfood come abbiamo detto innovazioni nella tecnologia alimentare attenzione ai cibi funzionali sempre più personalizzati importanza del packaging innovativo e anche a livello di bevande importanza delle bevande funzionali un ultimo aspetto su cui volevo porre l'accento ovviamente l'impatto dell'invecchiamento della popolazione sta generando anche un forte effetto nel processo di adattamento dei prodotti alimentari e quindi nell'ambito di questa che si chiama silver economy l'economia della popolazione più anziana c'è una forte attenzione anche al cibo che viene proposto alle generazioni più senior e che sta generando anche una diversità nella domanda alimentare un processo di diversificazione della domanda l'impatto dell'invecchiamento della popolazione sta a sua volta aumentando la domanda di prodotti alimentari salutari e funzionali ma anche di cibi facili da consumare e anche nella modalità di erogazione si sta progressivamente sviluppando la prassi di avere delle confezioni e delle porzioni piccole adatte alla popolazione anziana e quindi occorre tenere presente anche nel proporre la propria offerta al consumatore giapponese di segmentare il mercato a seconda delle generazioni che si vogliono che si vogliono servire personalizzare sempre di più l'offerta in base alla ai consumatori persone che si vogliono raggiungere con la propria strategia di penetrazione commerciale importante tenere presente che i cibi pronti e l'aspetto convenienza sono degli aspetti molto importanti del mercato alimentare come pure le modalità di consegna a domicilio sono sempre più sviluppate in questo paese infatti anche il settore del retail alimentare sta subendo una progressiva evoluzione i supermercati si stanno adattando a queste trasformazioni che si stanno verificando dal lato della domanda e delle preferenze di acquisto e delle modalità di acquisto da parte dei consumatori giapponesi che vedono sempre di più privilegiate le vendite online e i servizi di consegna a domicilio e questo ovviamente influenza anche le strategie di marketing a favore del retail alimentare i supermercati stanno subendo un'evoluzione come in tutto il mondo con un processo di digitalizzazione molto avanzato e di automazione un assortimento sempre più spinto di prodotti sia da un lato locali della tradizione giapponese sia biologici una forte focalizzazione sulla freschezza e sulla qualità dei prodotti ma anche nel garantire ai consumatori un'esperienza di shopping sempre di più personalizzata rispetto alle proprie esigenze e questo ha ovviamente determinato anche un'evoluzione lo vedrete quando vedrete qui a Tokyo per la fiera un'evoluzione dei convenience store che assorbono un po' tutti questi discorsi che abbiamo appena fatto sui cambiamenti delle preferenze sulle modalità di acquisto dei consumatori giapponesi che comunque alla base come minimo comune denominatore prevedono comunque l'adozione di tecnologie verdi una personalizzazione sempre più spinta l'adozione di tecnologie sempre più disponibili su app mobili e ovviamente l'adattamento alle esigenze demografiche che stanno caratterizzando la morfologia demografica del paese occorre quindi per chiudere tenere molto presente quando si stabiliscono delle strategie di ingresso nel paese i comportamenti di acquisto dei consumatori l'influenza anche dei social media e della pubblicità sulle abitudini e sui comportamenti di acquisto e le tendenze emergenti nei consumi di cui ho cercato di parlare quali sono i comportamenti di acquisto l'abbiamo visto qualità autenticità freschezza salute convenienza e shopping online e utilizzo di tecnologia occorre tenere presente questo sensibilità al prezzo e alle fluttuazioni di tasso di cambio sostenibilità e consapevolezza ambientale ma anche fedeltà al brand e alla tradizione cioè i consumatori giapponesi hanno un forte processo di fidelizzazione ecco perché è importante avere la migliore immagine la migliore crearsi una consapevolezza del proprio brand sul mercato il cosiddetto processo di brand awareness brand reputation perché i consumatori giapponesi sono molto legati a marchi che considerano poi affidabili alle esperienze di consumo precedenti che hanno garantito a loro l'elevata qualità esistono anche delle sfide sfide del mercato la forte dipendenza delle importazioni l'invecchiamento della popolazione i cambiamenti sempre più repentini e veloci nei comportamenti ma anche le criticità dal punto di vista dei problemi ambientali che il paese che il paese sta attraversando unitamente alle sfide che sono però anche opportunità nell'ambito dei processi di innovazione l'elevata competizione che esiste su questo mercato ma anche l'attenzione alle regolamentazioni agli standard di sicurezza quindi procedo a a voler a rappresentarvi quelli che sono le principali modalità i principali regolamentazioni molto molto diciamo non vedo ecco molto in in sintesi per poter esportare prodotti alimentari in Giappone occorre seguire attentamente i processi di esportazione soprattutto il processo di sdoganamento che è un processo molto molto delicato molto peculiare strategico direi per poter appunto avere successo nella nazionalizzazione delle merci importate nel Giappone ma l'attenzione alle leggi e regolamenti in particolare all'etichettatura che bisogna apporre sulle merci gli esportatori devono necessariamente designare un importatore per lo sdoganamento quindi la fase ovviamente lo conosce sapete il vostro mestiere l'identificazione di un importatore è la fase è una fase molto delicata molto strategica e come sapete i nostri uffici forniscono dei servizi per poter aiutare le vostre imprese a selezionare e identificare il miglior importatore adattato alle vostre esigenze alla tipologia del vostro prodotto alle tipologie delle vostre leve di marketing ed è l'importatore che poi esegue le principali operazioni per conto dell'esportatore e quindi soprattutto tutte quelle operazioni di compliance con la normativa locale e occorre tenere presente che le dogane giapponesi come ho già detto sono molto rigide tutti gli alimenti sono soggetti ad ispezione sanitaria e fitosanitaria per consentire lo sdoganamento anche i prodotti agricoli non trasformati mentre per i prodotti freschi e lattiero casiari è necessaria una quarantena nel processo di sdoganamento gli esportatori devono ottenere un certificato di analisi rilasciato da specifici laboratori che sono specificamente individuati e riconosciuti e per ogni tipo di spedizione quindi per ogni spedizione va allegato un certificato di analisi una delle caratteristiche di cui bisogna tenere presente quando si studiano le leggi e i regolamenti del Giappone è l'attenzione ai limiti massimi di residui di prodotti chimici agricoli incorporati negli alimenti perché esiste una legislazione molto molto rigida su questi valori massimi consentiti che molto spesso superati i quali le merci destinate alle importazioni non vengono sdoganate e quindi con grosse perdite per i produttori che le hanno fatte per venire fino al Giappone occorre attenzione alle caratteristiche fitosanitarie soprattutto per i prodotti vegetali e la necessità ovviamente che i prodotti siano assistiti da un certificato fitosanitario dopo aver verificato se nell'ambito delle liste del Ministero dell'Agricoltura giapponese il prodotto sia ammissibile all'importazione perché esistono delle liste di prodotti vietati all'importazione oppure in un altro caso i prodotti per i quali non non è necessaria un'ispezione doganale le ispezioni sugli animali sono molto accurate ovviamente solo la carne lavorata in impianti specificamente approvati e designati può essere esportata in Giappone quindi esiste una legislazione che va studiata soprattutto per quanto riguarda le importazioni di carni animali e di nuovo l'accento su questo aspetto degli additivi perché è un aspetto molto peculiare in quanto la normativa giapponese è diversa da quella dell'Unione Europea e quindi gli esportatori devono fornire informazioni relativi agli additivi consultando la lista degli additivi consentiti perché se un prodotto come ho detto precedentemente contiene un additivo non consentito esiste il divieto assoluto di importazione in Giappone e vengo poi alla fase dell'etichettatura che è una fase molto delicata deve l'etichetta contenere una serie di informazioni specifiche come il nome del prodotto le tecnologie di conservazione la data di scadenza la data di durata sullo scaffale e anche i nominativi di produttori e importatori ovviamente il contenuto in termini di allergeni o organismi geneticamente modificati l'indicazione del paese di origine e come ho detto ingredienti ed additivi qui vedete ad esempio un esempio di etichetta giapponese che quindi si può scegliere se inserirla dall'Italia ma molto spesso viene inserita dall'importatore quando la merce siede per utilizzare un termine nel magazzino doganale è uno sticker che è l'importatore che è maggiormente al corrente delle regolamentazioni di importazione appone sul packaging dei prodotti sull'involucro dei prodotti non vado nei dettagli esistono dei casi particolari soprattutto per gli alcolici perché c'è una legge specifica sugli alcolici che quindi impone un certo contenuto delle etichette poi esistono dei casi specifici quindi occorre controllare bene una serie di informazioni prima di effettuare il processo di esportazione perché esistono forti sensibilità soprattutto per quanto riguarda le importazioni di carne gli alimenti biologici devono essere certificati quindi è vietato vendere prodotti che vengano definiti biologici ma senza il logo della Japan Agricultural Standard quindi occorre tenere molto occorre studiare e informarsi sulle regolamentazioni per l'ottenimento della certificazione biologica come pure molte regolamentazioni molto peculiari riguardano i cibi sani e gli integratori su cui esiste una disciplina particolare che deve essere seguita ed esiste anche un confine molto labile tra gli integratori alimentari farmaceutici e quindi occorre tenere presente quali sono le differenze e come essere attenti appunto a non invadere la categoria dei farmaceutici perché altrimenti le regolamentazioni diventano molto molto più complesse poi ci sono anche regole per i pet food su cui non vado perché non mi sembra sia l'argomento della dell'attuale presentazione io avrei finito e sono a disposizione avrei concluso sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti di ulteriori informazioni poi magari chiedo anche alla collega dottoressa barp vice direttrice dell'ufficio di voler intervenire per rappresentare un po' le quelle che sono le caratteristiche della foodex di cui tener presente per per avere una massimizzare l'efficacia della vostra partecipazione all'evento saranno accessibili queste slide sì sì le possiamo condividere senza altro senza alcun problema Teresa nel frattempo arrivano altre domande volevi puoi fare un po' rappresentare quelle che sono le caratteristiche della foodex sì certamente a parte se ci sono domande specifiche sono a disposizione comunque ovviamente dalla foodex come dicevi in apertura tu è una delle principali manifestazioni la principale non solo in Giappone ma in Asia per il settore agroalimentare a cui l'Italia partecipa da partecipazione pluridecennale con un padiglione di aziende molto cospicuo da anni siamo il principale padiglione nazionale sia per numero di espositori che per superficie espositiva e quest'anno il nostro padiglione avrà oltre 3.000 metri quadri con circa 190 espositori e la partecipazione è organizzata in ovviamente aree espositive degli stand espositivi delle aziende ma anche in corner promozionali dove proprio cerchiamo di svolgere delle attività per attirare i visitatori i buyer che visitano la fiera ma anche per promuovere e far conoscere quelle che sono le peculiarità della gastronomia italiana quindi ci sarà uno spazio cucina dove verranno realizzate un programma di cooking show proprio con il tema delle quattro stagioni giapponesi abbinate alla cucina italiana per un benessere con gusto e si riallaccia a quanto diceva prima il direttore quindi sull'importanza che viene data dalla popolazione giapponese l'attenzione al viver sano e in armonia con le stagioni ci sarà anche poi uno spazio caffè un punto caffè dove viene approfondita la conoscenza del prodotto italiano tra gli operatori giapponesi e a cura diciamo di barman professionisti quindi in collaborazione con l'international institute of coffee tasters del giappone anche un corner sui formaggi italiani in collaborazione con assolatte diciamo un appuntamento anche questo molto atteso che viene ripetuto nel corso delle partecipazioni alla foodex dove vengono presentate realizzate delle presentazioni dei seminari quindi di spiegazione dei formaggi italiani ma anche delle degustazioni quindi proprio per conoscere e promuovere al meglio la produzione lattiero casearia italiana ci sono anche degli spazi informativi per esempio un altro dei progetti che è portato avanti dall'agenzia ICE è quello della tracciabilità quindi ci sarà un corner dedicato a questo progetto specifico che si chiama Tre Kit che è proprio un rivolto alle aziende italiane che esportano e desiderano acquisire un maggiore vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza nazionale e mondiale tracciando la filiera produttiva attraverso la tecnologia della blockchain quindi per raccontare quindi attraverso questa nuova tecnologia sia per raccontare ma anche per garantire la qualità dei propri prodotti ai consumatori di tutto il mondo come ufficio realizziamo ovviamente delle azioni di comunicazione e di sensibilizzazione verso gli operatori giapponesi affinché quindi cercando di portare un maggior numero possibile di visitatori verso lo spazio italiano a beneficio delle nostre imprese quindi viene realizzato un catalogo digitale che è online proprio da ieri quindi è già a disposizione oltre a delle pubblicità sulle principali riviste e testate online di settore così come delle mailing delle newsletter proprio mirate a tutti gli operatori di settore se ci sono diciamo indicazioni o richieste particolari sulla Foodex sono a vostra disposizione direi che è stato molto molto interessante ecco una domanda si sa già i buyer sono soprattutto giapponesi cioè la composizione dei degli operatori che visiteranno la Foodex non si sente i visitatori no sono non solo sono giapponesi ovviamente la fiera prevede circa di superare gli 80.000 visitatori la composizione è sicuramente una gran parte nazionale ma ci sono molti visitatori da tutto sudiastasiatico dall'Australia dai paesi vicini e non solo cioè la composizione dei visitatori è internazionale io mi ricordo una decina di anni fa quando ero venuta alla Foodex cioè avere comunque un giapponese o comunque uno che parla giapponese all'interno dello stand è un plus rispetto a un a semplicemente parlare in inglese oppure è cambiato qualcosa sì perché gli operatori giapponesi magari anche coloro che parlano comunque diciamo un po' di inglese per quando si comincia a entrare nel vivo delle trattative commerciali comunque prediligono non tutti ovviamente però prediligono utilizzare la propria lingua quindi sicuramente anche diciamo in azienda in previsione magari di una di voler radicarsi nel territorio pensare a personale diciamo che parla la lingua giapponese è sicuramente un plus nell'ambito della diciamo del padiglione durante la fiera saranno a disposizione delle aziende italiane degli interpreti che saranno disponibili presso lo stand di ICE non sono degli interpreti in esclusiva sono a disposizione di tutte le aziende ovviamente in base alle esigenze del momento possiamo fornire anche eventualmente se qualcuno ha esigenza o volesse un interprete dedicato i riferimenti diciamo di fornitori o di agenzie di interpretariato e traduzione che sono iscritti al nostro albo fornitori che quindi di solito ci avvaliamo dei loro servizi per metterli in contatto con le aziende che necessitassero o volessero provvedere ad un interprete dedicato un'altra domanda è l'approccio del nostro operatore all'operatore giapponese cioè sei tu che ti proponi o sono loro che scelgono prima il prodotto scelgono e vengono a chiedere cioè come approcciarsi con il buyer una regola precisa non c'è sicuramente sicuramente il rispetto di alcune regole di business etichette locali sono molto importanti può sembrare una banalità però ricordare alcuni aspetti veramente semplici come quello dell'essere dotati di biglietti da visita e quindi di rispettare anche diciamo con l'educazione della modalità dello scambio dei biglietti da visita è anche una parte molto importante che denota quindi un'attenzione dell'operatore italiano verso la cultura locale quindi diciamo il porre attenzione nel momento in cui viene scambiato il biglietto da visita e quindi leggere il nome e il titolo della persona con cui si ha a che fare è sicuramente un un primo approccio corretto e dipende molto spesso gli operatori giapponesi tendono ad informarsi tantissimo quindi vanno molto in dettaglio nelle proprio su le caratteristiche dei prodotti di loro interesse quindi studiano prima per questo noi come ufficio siamo soliti pubblicare ad esempio il catalogo delle aziende italiane partecipanti con largo anticipo siamo un mese prima della fiera il catalogo online e proprio per questo abbiamo forse stressato molto le aziende per cercare di avere tutti i dati con deadline piuttosto serrate proprio per questo motivo cioè per dare la possibilità poi agli operatori giapponesi che noi sappiamo andare ad informarsi con largo anticipo di studiare l'offerta italiana e quindi di essere pronti al momento di ricevere la visita in fiera è perfetto orario se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda se no possiamo lasciare andare augurare buona serata Aice Tokyo al direttore e alla dottoressa Bart sì semplicemente ricordo che comunque il nostro ufficio è a disposizione per qualsiasi tipo di assistenza in chiusura di questo webinar troverete una semplice domanda di customer satisfaction sul gradimento dell'intervento formativo e avrete quindi nel questionario tutti i riferimenti per contattare il nostro ufficio per un'assistenza personalizzata il catalogo dei servizi che offre Lice è online sul sito del Lice e ci sono numerosi servizi gratuiti per la maggior parte delle aziende produttrici soprattutto per le piccole imprese per la ricerca di controparti sui mercati stranieri Io vi ringrazio ringrazio le aziende che ci hanno seguito e auguriamo buona fiera a tutti e che quelle aziende che hanno avuto un interesse a seguire questo seminario l'anno prossimo possano iscriversi e possano cercare di entrare in un mercato così importante come quello giapponese Ottimo grazie a voi per l'attenzione e la pazienza di aver ascoltato la presentazione vi aspettiamo in questa prima fase per coloro che verranno vi aspettiamo a Tokyo e per gli altri il nostro ufficio come ha detto la collega è a disposizione per fornire ulteriore informazioni in merito al mercato grazie a tutti grazie a tutti grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.